Quarta corsa all'ippodromo delle Capannelle, prova riservata agli aspiranti allievi impegnati con soggetti di 4 anni sui 1640 metri. Sono in 12 al via, l'uno Saturni a Luis, due Sovrano, tre Sparviera a Buzia, quattro Superman Scott, cinque Spencer Brienne, sei Sebastiandete, sette Scislaide SM. In seconda fila, numero otto Soraya Caff, nove Stornello Jet, dieci Selendete, undici Stile Ok, dodici Saur. Betting che è orientato su Spencer Brienne. E' proprio Spencer Brienne che prova ad emergere allo stacco, si porta al comando in maniera piuttosto agevole sul numero due Sovrano. Poi partita molto bene, la seconda fila Selendete all'esterno Superman Scott che offre la schiena a Sparviera a Buzia, lancio in 13 e mezzo. Con i cavalli che adesso vanno a rifinire i 400 iniziali, il leader che li può passare in 31 e mezzo. Andatura di tutto comodo, la puntata da fondo gruppo da parte di Sebastiandete che prova a scavalcare i cavalli all'esterno, c'è l'errore di Scislaide SM. 46 per i 600 iniziali con Sebastiandete che ha raggiunto Spencer Brienne, i due seguiti sempre da Sovrano che ha di fuori Superman Scott richiesto. Lungo la corda c'è Selendete, all'esterno ancora Sparviera a Buzia, mezzo miglio iniziale in 1 e 1 con Spencer Brienne e Sebastiandete apparighiati. I due prendono leggero vantaggio su Sovrano, deve trovare a destra libera Selendete alla chiusura del chilometro che se ne va in 1-16-1. Spencer Brienne torna in chiaro vantaggio all'attacco dei 500 conclusivi, Sebastiandete sempre all'esterno. All'esterno prova ad avanzare anche Saturnia Lewis, attacco dei 300 finali con Spencer Brienne che prova a scappare. Calato se in bastiandete lungo la corda è reattivo Sovrano, poi Selendete che cerca sempre la destra libera che adesso ha. All'esterno Saturnia Lewis, retta d'arrivo con Spencer Brienne in controllo. Su Sovrano va di dentro Selendete nei metri conclusivi, deve solo amministrare Cristian Fiore che va a portare a casa un facile successo. Per il secondo posto Selendete rimonta all'interno Sovrano. Bella affermazione per Spencer Brienne da favorito, 2,94 la quota al totalizzatore per l'allievo di Glauco Cicognani al doppio a seguire. I colori in questo caso del signor Enrico Conti in testa da un capo a un altro. In maniera facile conferma la bella impressione lasciata all'ultima uscita. Fratello di Migenne, Rubensenne, ottima genealogia questo Spencer Brienne che sembra aver fatto dei buoni passi in avanti. Seconda posizione per una valida selendete, numero 10 al terzo e numero 2 Sovrano 5-10-2 l'ordine arrivo ufficioso della quarta corsa da Reca Pannelle. Grazie a tutti.